Bentornati a Good Morning Milano, eccoci qui con... adesso arriva il momento dell'ospite perché insomma oggi stiamo leggendo poi i giornali, sapete tutta la notizia che la Cassazione ha detto che è reato se c'è pericolo fascista e quindi nel 2016 quando si fu il saluto i romani per la commemorazione a Ramelli, insomma adesso si è da rivedere tutto quel caso, si riapre il processo perché in prima istanza erano stati assolti e poi condannati, adesso la Cassazione dice no, è reato solo se c'è pericolo di ritirazione della costruzione del partito fascista, insomma questa decisione la Cassazione ha portato davvero tantissimi a domandarsi da che parte si sta andando e soprattutto anche dopo quello che è successo a Roma per il ricollo appunto di H. Larenzia. A Milano è comparsa un'opera d'arte, è comparsa in un luogo abbastanza particolare o meglio indicativo, ma credo sia stato scelto opposto, lo chiediamo ovviamente all'artista Cristina Donati Meyer che abbiamo in collegamento con noi che appunto ha fatto un quadro antifascista davanti proprio alla sede di Fratelli d'Italia in quel di Corso Buenos Aires. Giusto Cristina? Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Esattamente, la scelta del luogo come hai detto tu non è per nulla casuale. Ecco, insomma è stata una bella presa di posizione, tu sei una che non è che si nasconde mai quando c'è da dire la propria, tu porti avanti una tua corrente, possiamo chiamarla così, quella dell'artivismo, giusto? Esattamente, sì, artivismo, artista e attivista nello stesso concetto. Ti sei sentita però tirata in caso, in questo caso hai detto io qua devo fare qualcosa, cosa è stato a smuoverti, cosa vuol dire per te aver fatto quest'opera e le conseguenze anche, so che insomma non è una cosa semplice quello che sta succedendo adesso. Eh no, eh no, appunto. L'opera che si intitola Cacca la rentia, defascistizziamoci, richiama appunto lo scandalo dei mille fascisti e del loro show a Roma, sul quale la Presidente del Consiglio ha ovviamente taciuto e il Presidente la Russa ha derubricato a ragazzata. Si intitola provocatoriamente così perché mi auguro e auspico che tali immagini che riportano al periodo più buio della storia italiana non debbano mai più vedersi e che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano sciolte e trattate assolutamente come come meritano. Ovviamente in seguito alla realizzazione dell'opera, come dicevi tu, ho ricevuto insulti, insulti sessisti, minacce e diciamo che l'avevo messo in conto. Ovviamente ci tengo a dire che l'opera e l'intervento nulla centra con i tre giovani uccisi, ma bensì con lo show orribile a cui abbiamo assistito. Ma ti sembra normale che bisogna ancora... tu hai dovuto fare questa specifica adesso, nel senso dicendo guarda io non ce l'ho su con tre giovani che sono stati ammazzati ad accalare inizia, ma ce l'ho su con lo show che è avvenuto, come chiami tu, lo show fascista che è avvenuto qualche settimana fa. È ancora qui che dobbiamo stare a dire così? Ebbene sì, perché sono stati in primis decorato e foti a mettere la pulce all'orecchio insinuando che io ce l'avessi appunto con la tragedia dei tre ragazzi, quando è assolutamente fuori questione sotto gli occhi di tutti quale sia il vero problema principale in questo momento. Queste adunanze che il governo fa finta di non vedere e insomma noi vediamo bene invece, con gli occhi ben aperti. Ecco, ho letto una dichiarazione di foti, non sto leggendo da tutta, ma sul finale devo dire che... però ti ha fatto un complimento secondo me alla fine, cioè nel senso che lui dice questa più che street art altro non è che guano art. È bellissima la guano art. Eh allora, innanzitutto adesso è anche critico, critico d'arte questa cosa meravigliosa, fantastica. E poi, che ne so, magari dal via un nuovo movimento guano art, vediamo, dai, ci penso. Cristina Dornati Meyer, l'avanguardia dei guanaisti, va bene, qualcosa del genere. Vabbè, un nuovo movimento artistico, è sempre un crescendo. Infatti, un nuovo movimento artistico. Spesso e volentieri, lo si dice soprattutto nella musica a volte, no? E poi dopo comunque per fortuna abbiamo avuto anche Guccini, D'Andrea e quella gente lì. Però spesso e volentieri, quando magari un cantante, un artista così fa politica, si dice no, però faccia il suo, lui canti le sue canzoni, nel tuo caso tu fare i tuoi quadretti e non stare a rompere le scatole alla politica. Invece per te è fondamentale fondere le due cose. Allora, l'arte, a mio parere, deve essere un tutt'uno con la vita, immergersi nella realtà. Soprattutto in un momento storico come questo, gli artisti devono insorgere e aiutare a riflettere. L'arte deve e può offrire agli spettatori spunti di riflessione, deve comunicare, provocare, insomma, costringere la gente ad usare la coscienza e il cervello, che sono sempre messi più a dura prova dall'abuso dei media, gli social, eccetera, eccetera. Per me oggi l'arte o è impegnata oppure risulta mera decorazione. Ah, giustamente, ok. E come hai iniziato tu? Come ti sei approcciata appunto a questa modalità, a questo artivismo? È nata prima l'arte o l'attivismo per te? Sono nati contestualmente. Fin da piccola ho fatto sia uno che l'altro. Sono sempre stata un'attivista per i diritti degli animali, per l'ambiente, femminista e antifascista convinta. e sta di fatto che a un certo punto di questo cammino ho deciso di unire le mie due passioni e diciamo che ho coniato questo termine artivismo. Mi sono data da fare con gli strumenti che ho a disposizione. Arte, pennelli, spray, idee, bombolette per portare sui muri di Milano, ma non solo quelle che sono le mie provocazioni per svegliare un po' le menti sopite, per fortuna non di tutti ma di alcuni. Ecco, poi che fine fanno le tue opere? Riescono a rimanere lì per un po' oppure vengono subito cancellate da chi non digerisce il tuo pensiero? Dipende, ci sono alcune che sono più impermanenti e durano davvero poco, qualche ora, e poi vengono vandalizzate. Addirittura, qualche ora, addirittura. Sì, sì, sì. Per fortuna poi le opere continuano a vivere comunque tramite le foto, Instagram, i social da quel punto di vista hanno un loro senso. Cristina, qualcosa di buono hanno fatto anche loro, diciamo. Assolutamente sì, come tutto bisogna vedere l'uso che se ne fa. Ecco, perché, bravissima, anche loro, abbiamo scherzato prendendo in giro i social, però spesso ventri poi così, no? Cioè ci si divide subito, in un attimo, favorevoli o contrari, sempre su tutto. Notizia anche di oggi, ad esempio, una scritta antisemita perché vicinissima alla sinagoga di Milano, dove, mi dovrebbe dire anche giustamente, viene richiesta il cessato del fuoco su Gaza, ma poi si trascende in altro, o meglio, non si capisce poi mai qual è il limite lì, nel senso che appunto, da una parte c'è una sacrosanta richiesta di un cessato del fuoco e di fermare una sorta, possiamo chiamarlo forse quasi genocidio, direi, o comunque un momento davvero complicato di tragedia umana che sta avvenendo in quel di Gaza, dall'altra però subito poi si corre al, ecco siete antisemiti, ce l'avete su con gli ebrei e tutto. Cioè ci si divide anche quando si parla di salvare la povera gente. L'urlo di dolore della Palestina dovrebbe essere ascoltato, adesso andando oltre a tutte le idee che potevamo avere, dobbiamo ascoltare, quel popolo sta, è decimato, lo sanno appunto genocidio, tu hai usato una parola assolutamente giusta, quindi che facciano una scritta sulla sinagoga è il minimo, ripeto, è un minimo per quell'urlo di dolore che noi non stiamo ascoltando o ascoltiamo davvero troppo poco. Io Cristina ti ringrazio davvero tanto, insomma grazie per il tuo artivismo, tu sei una di quelle che fa artivismo, diciamo, ti senti un po' sola o comunque c'è un movimento che riesce a farlo ancora come dovrebbe fare l'arte a volte appunto di farci, come dicevi tu, anche darci una scossa alle nostre coscienze, di noi che passiamo, vediamo e forse abbiamo quei sei secondi in più di pensiero che proprio finalmente almeno per sei secondi facciamo un bel pensiero. No, no, ci siamo, siamo parecchi e parecchi in Italia e nel mondo noi artivisti e ci faremo sempre sentire sempre di più e sempre più forte. I nostri colori saranno sempre più vivaci in modo che stiano davanti agli occhi di tutti. Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo, grazie mille a Cristina Donati Meier, cercatela, dacci le coordinate velocissime sui tuoi social così possiamo cercare quello che fai. Ci Donati Meier su Instagram e trovate tutte le mie opere. Perfetto, allora io ti ringrazio davvero tantissimo, spero magari un giorno di averti anche qui ospite in studio con noi per parlare più ampiamente di quello che fai e di come appunto, quella cosa di smuovere le coscienze secondo me è un obiettivo davvero lodevole, alto e che spero che qualcuno magari davvero anche oggi passando davanti alle tue opere abbia quel fremito. Quindi grazie mille Cristina, davvero. Grazie a voi.